Sì, guarda il canale del Drago Freebooter e capisci. Anir legale. E vai di un po' la stupida. Sì, assolutamente. Tu riconosci il suono dei miei alert? Cioè di quello che si sente ogni tanto? Fate andare... Fate andare una notifica. Guarda, la faccio partire. Cosa dovrai capire da questa roba? Non lo so. No, la batteria non l'hai riconosciuta. È a volume 1, raga. Togli il ciao, eh. Dovrai riconoscere la batteria? Sì. È l'inizio di alcune cose. No. Non è una canzone. No, no, no. È l'intro di qualcosa. Pensa... Oh. Zero? Ci sta. Zero proprio. Pensa tipo a... Non è una canzone, ma avete detto. No, è un intro di un inizio di un video. Di un inizio di qualcosa. Raga, ma come faccio a... Cioè... Eh no. Inizia con la P. Stiamo parlando di Pornhub. Adorerai. Allora, questa la so anche io, perché non è che non andiamo tutti quanti vanno su Pornhub, cioè non diciamo... Però, quella roba del... Perché guardare solo il... Quando puoi anche farlo. Esatto. No, ma quella bella è... Esatto. Perché masturba... No, sei stanco di masturbarti? Vorresti un compino? No? Di quanto volevo registrare lo schermo perché fa troppo ridere. Sì, sì. Mi diventi così volta. Ti seguo. Bomba comunque. Grazie del supporto.